bentornati qui a radio news 24 ed on air interviste e storie io sono calogero gambino e si va adesso a cesena a parlare con riccardo cellini e più intanto ti saluto riccardo ciao e benvenuto grazie mille avicoli ornamentali e raccontarci quali sono le atti le sue attività insomma i servizi che offrite avicoli ornamentali è un'azienda familiare noi sono io con mia madre mio padre mio fratello nasciamo una quindicina d'anni fa più o meno perché non c'è proprio una data precisa comprando le prime anatre e le prime galline e dal di lì perché ci siamo evoluti noi come famiglia come azienda fondamentalmente in base al periodo dell'anno ovviamente parlando di animali allevate in maniera amatoriale siamo vincolati al normale svolgere delle stagioni quindi abbiamo possiamo vendere delle uova più ponte da metropolini fumatissime primaverile nel periodo tardo primaverile inizio estate abbiamo i primi nati quindi possiamo vendere pulcini alla troppoli ucchini e quant'altro e poi man mano che si avanza verso l'autunno e fino all'inverno abbiamo le coppie adulte quindi l'animale già adulto da poter vendere però ovviamente siamo comunque vincolati appunto a queste stagioni alla stagionalità del nostro lavoro è giusto quindi base un po' al momento dell'anno in cui ci troviamo abbiamo qualcosa poi non abbiamo più niente fino all'anno successivo perché comunque non conosciamo non modifichiamo l'etologia classica degli animali lasciamo liberi all'aperto e quindi come per noi anche per loro c'è la stagionalità e l'anualità ma com'è nata questa passione? come penso poi un po' tutte le passioni per tutte per tutti nel senso che io come famiglia abitiamo in campagna e niente abbiamo comprato le prime coppie ci sono piaciute ci abbiamo preso gusto e anno dopo anno ormai sono quasi 20 anni che a piccoli gradini aumentiamo sempre di più tra virgolette il numero di animali cambiamo e quindi appuntamento su abicoli ornamentali e intanto ti saluto grazie Riccardo per aver partecipato ad On Air ciao grazie a voi arrivederci